barbaresco red obsession enigmi e vini si fondono in un'emozionante esperienza di gioco con degustazioni sulla torre e picnic in lunchbox da consumare in una cantina del barbaresco la storia che vivrete è un omicidio è stato ritrovato il corpo della giovane giada ferrero figlia del noto produttore di vini aveva in mano uno dei vini di famiglia sul quale sono state trovate molte impronte tanti sono i sospettati di questo delitto chi sarà stato e perché dovrete scoprire chi è l'assassino tra i sospettati l'arma del delitto il luogo e il movente per formulare l'accusa ed arrestare il colpevole il tempo passerà inesorabilmente riuscirete a risolvere il caso